La prevenzione delle malattie croniche in Italia. Qual è la situazione attuale? Nel nostro Paese c'è da sempre una grande attenzione nei confronti della prevenzione. È difficile poi metterla in atto perché le procedure e tutti gli interventi presuppongono grandi investimenti, grande partecipazione non soltanto da parte degli operatori sanitari ma anche da parte dei cittadini. La prevenzione si articola in tante fasi, la più importante delle quali sono i comportamenti e la capacità di aderire alle regole. Quindi in questa nuova fase noi stiamo dando un'ulteriore spinta non soltanto all'informazione che è necessaria ma soprattutto a tutti quei metodi che servono per convincere i cittadini a partecipare ai buoni stili di vita mettendoli in pratica. In questo contesto qual è il ruolo che è probabilmente molto importante dei medici che hanno un rapporto quotidiano con i cittadini? I sistemi che si stanno affermando sono tutti sistemi centrati sulle cronicità perché le cronicità sono il grande punto critico dei sistemi futuri. Tante persone che invecchiano, tante persone che invecchiando hanno malattie croniche. È evidente che se non colleghiamo al problema della cronicità e al problema della prevenzione noi avremo tante persone che invecchiano con malattie croniche che stanno male e che quindi sono molto costose e che quindi non ci possiamo permettere. Quindi se colleghiamo la prevenzione come punto di partenza cerchiamo di avere tante persone che invecchiano, invecchiano bene, stanno bene in salute e quindi non sono un peso per il servizio sanitario nazionale o sono un peso molto minore. Quindi cronicità senza prevenzione non esistono. E in questo contesto qual è il ruolo innovativo dell'istituto che nasce oggi? Innanzitutto per parlare di problemi di popolazione, cioè problemi che sono estesi a decine di milioni di persone, bisogna sapere di cosa stiamo parlando. I dati che spesso abbiamo sono dati amministrativi, cioè vengono da fonti che registrano data, sesso, data di nascita eccetera. Noi stiamo portando a questa nuova organizzazione i dati della vita reale delle persone, cioè quello che succede nei 60 milioni di cittadini italiani giorno per giorno, come si curano, cosa fanno, quanto ingrassano, quanto dimagriscono, cosa fanno, quali procedure adottano, quali farmaci prendono. E questo secondo noi dovrebbe determinare, sebbene applicato, uno straordinario cambiamento proprio nel modo in cui noi leggiamo la vita quotidiana.